Col pensiero? No, muo... Vento le labbra, sapevo. Ah, ok. No, di... Ah. Non c'ha nei miei paresi. Quella frase, seriamente, quella frase di prima, però... Perfetto, adesso io mi metto dietro di te, stai sereno, loro ti inquadreranno in primo piano, farei la stessa cosa dedicandola alla tua probabile donna. Va bene, nessuno saprà. Mi l'ho lasciato per... Per questo motivo, lo so, anche per altri... Sì, riguarda anche altri motivi che sai perfettamente. Ok? Ma non vogliamo dirli qui. Stretto su di lui, se ci si riesce, io metto qui, quando ti tocco la spalla, tu parla, ok? 3, 2, 1... Non posso vivere senza la mia vita. E non posso morire senza la mia anima. Ti capito? Ora la gente sembra che ho cambiato voce, ma che... Mi chiameranno un esercito? Ma sono abitati a sentire la mia voce, come... Ma questo ti fa capire perché non c'hai un amico, te? Cioè, il telefono. Ma che nessuno ti chiama? Ti chiamo io. Non gli c'è un smesso, su quelli che ti dicono, è in segreto e ti è scaduto. E manco quelli, più o meno, perché... Io qua a New York, in Italia, manco la signorina della... E qua. Adesso stai qui. Ma adesso quando torno per fare Riccardo, parliamo. Noi abbiamo chiamato il 911, sai che cos'è, no? Sì, emergenza. Emergenza. Allora arriveranno, sanno che... Prova tutto bene, eh. Ok? Va tutto bene, ok? Va tutto quanto bene, ok? No, fammi... Guardami. Va tutto bene, ok? Va tutto quanto bene. Va tutto bene, ok? Va tutto bene. Tu sei un bel ragazzo. Dentro di te sei bene. Dentro. Ma te ne apritemi. Eh, lo so. E quello è il problema. Il problema è che io non riesco poi... Ma secondo lei cos'è che mi manca? Un po' tutto. Però non ti preoccupare. C'è sempre tempo per recuperare. Va bene? Va bene? Io adesso mando l'ultimo contributo. Ma questo me lo regala? Sì. No, o paghi. Sono 9,90 euro. Io ho preso il portato, questo lo compri. Dove devi comprare? In? Edì? In libreria. Anche. No, anche in edì. In te libreria non te fanno entrare. C'ho la tessera. Eh. Del trame. Allora, mi prendo pure questi occhialetti che non so niente male. Mi presenti l'ultima clip? Io me ne vado perché mi sembra ridicolo. Io stia continuando a stare qui. Va bene? Ok? Per un attimo ci ho creduto. Non posso vivere senza la mia vita. No, non continuo. Te fai male. Perché? Ok. Tu dì. Mandiamo un altro contributo. Dillo. No. Lo dico. Va bene. Va un altro contributo. Mandiamo un altro contributo. Mentre io me ne vado. E tu pure dopo volessi andare. Ok? Ciao. Ok. Saluta. Perché Tigi? Non serve. Ciao. Manda il contributo. Manda il contributo. Non salutare prima. Non si incontrano da tanto tempo. Di cosa? Ma ciao Mario. Ciro. Come stai? Bello. Come stai? Bene. E tu Mario? Ah. Mario. Sì. Lo sai chi è questo? No. Chi è? Questo qua. Ma questo è Bel Piero. Baccia ogni tanto allo stadio. La deficiente. E se ne va. Il giorno dopo. Ah Mario Gino. Come stai? Ah Mario. Sì. Che c'è? Lo sai chi è questo? Ma chi è questo? Questo è Robert De Niro. Baccia al cinema ogni tanto. La deficiente. Il giorno dopo. Ah Mario Gino. Mario. Sì. Che c'è? Lo sai chi è questo? Ma chi è questo? Questo è Sting. Baccia gli concerti ogni tanto. La deficiente. Sì. Il giorno dopo. Ah Mario. Sai Mario. No. No. Aspetta. Ah G. Tu invece lo sai chi è questo? No. Chi è? Questo è quello che va a letto con tu moglie. Stacci a casa ogni tanto. Ad efficiente. Allora. Ciao. Ciao. Citto. Non ti niente. Lascia sto ricordo. Ma se sei a buono. Lascia sto ricordo una gente. Mi saluti tanto per Paolo Riccardo. Eh. Te ringrazio pochi anni. Ma se mai sei a buono. Sì. Pensale le cose. E ma. Da buono. Pensale. Già fanno rumore così. Ok. Già la natura è stata dura con te. Ma sicuro non le... Ma non serve niente. La vuoi questa? Quanto sta il dollaro adesso? Eh. Uno zero. Eh. Mi vestiti a 14 dollari. Ce l'hai? Poi glielo do. Sei carino. Ma se le sei a buono. Io ti voglio bene così come sei. Ciao Salvo. Arrivederci. Ma sempre se le sei a buono. Stai distanzito però eh. Saluta Gian Paolo e Riccardo. Sossitto. I televisori. Ma è. Mano. Zitto. Zitto. Certo però mi poteva fare lavorare con lui. Ecco un buon libro. Guerra. Vietnam. Il generale McArthur è di fronte alle sue truppe. Allora ragazzi. Oggi voglio mettervi alla prova. Avete di fronte a voi che avanza un plotone di nemici. Sopra di voi un elicottero. Nemico. Pieno di mitragliatori. Vicino a voi. 20 bidoni di benzina. E voi soltanto un fucile con un proiettile. Che cosa fate? Tu. Chi sei? Calagan signore. Da dove vieni? Dal Missuri signore. E che cosa fai? Allora signore. Io imbraccio il fucile. Punto l'elicottero. Gli sparo con l'unico proiettile che ho. Lo prendo in pieno. L'elicottero precipitando va sopra i bidoni di benzina. Che esplodendo uccidero tutto il plotone nemico. Bravo Calagan. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Tu. Chi sei? Mario Rossi signore. Da dove vieni? Da Roma. Da Stevere. E che cosa hai da dire? Agalagal. Ah va a f***a. Oh. Scusate. Scusa Salvo. Hai mandato le barre. Sì. Il cartello. Le barre. Tutto. Non sai che fila che ci stava? Erano lì. Mancavano tre. Due persone. L'ultima porca miseria. Si è inceppato lo scontrino. La Starbucks. Niente. Sto bollente. Comunque hai mandato le barre. Sì. Che patrano. Tu non hai idea di chi è venuto qua? Chi è venuto? Pino Insegno non solo barzelletto. Sì vabbè. Cosa mi ha regalato. Ma dai te lo sei comprato questo. No no è venuto. È venuto. Ma sicura. È venuto. Pino Insegno è venuto qui a Siamo Stati Uniti. Ma dai. Ma è venuto. Oh gli occhiali? Ah. Oh lo scherziamo proprio. Gli occhiali dove stanno? Salvo dove sono i miei occhiali? Scusate mi è rimasta una cosa. Te lo spiego dopo. Te lo spiego. Ora. Dopo la pubblicità. Gli occhiali. 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 Gli occhiali.